Io vado con Gheddafi e con i suoi architetti a vedere i centri di accoglienza, su cui avevo ottenuto che ci fossero i caschi blu dell'ONU a garantire le condizioni umanitarie. Vedo i bagni, mi ricordo ancora il numero, 32 per ciascuno, guardo dentro i bagni e non c'è il bidet. Allora dico, ma non c'è il bidet, bisogna metterlo, Gheddafi mi guarda e fa, cos'è il bidet? Il bidet passa e guarda i suoi architetti e dice, cos'è il bidet? Allora dico, non preoccupatevi, datemi questo spazio come il vaso, uguale, bidet ce li metto io, perché avrò l'orgoglio di aver insegnato a questi scopatori di africani che esistono anche i preliminari! La signora Carfagni in prima fila si è scandalizzata, quindi ho colto nel segno. Grazie!